Da poco e adesso aveva, andami sdreao, che vino un sol peccato, e ho messa a risferduo, creandomi dovea, creandomi dovea, con tutto che volendolo puoi, a farmi sano, sano e provveduto. Creandomi dovea, creandomi dovea, creandomi dovea. Il primo che stai dal mondo è il nostro Signore, due, la luna e il sole, ma il primo che stai dal mondo è il nostro Signore, tre, tre re magi, la luna e il sole, ma il primo che stai dal mondo è il nostro Signore, che a cagione dell'Ommenice ha condannato, ha condannato. Io, tanti anni fa già, a un certo punto ho scoperto che quello che mi avevano raccontato, finito la guerra soprattutto, ho cominciato a intendere, capire, c'erano libri nuovi, si poteva parlare, si poteva discutere, e a un certo punto ho scoperto, trattando proprio l'argomento di Darwin, che ero un ignorante. Io ho cominciato a studiare, mi sono fatto raccontare, e finalmente mi è venuto fuori un testo che ho messo in scena, con successo davvero. Sono la bellezza di 75 quadri che raccontano, come in un grande fumetto, tutta la storia che stiamo raccontando. Quando finiremo noi di raccontare, voi potete farvi finalmente una passeggiata e allora capirete a chi si rivolge, che cosa si racconta e che cosa vogliamo che voi sappiate. Perché? Perché il problema è importante, è fondamentale per il genere umano, il conoscere.